Una benedizione per una famiglia polietrica e soprattutto composta da persone bisognose è quella impartita stamattina da Papa Francesco, che all'interno del Vaticano ha visitato il dispensario pediatrico Santa Marta, gestito come fondazione autonoma, ed ha poi incontrato in Aula Paolo VI il personale volontari che ogni giorno assicurano passi di assistenza per le persone bisognose. Il dispensario è stato fondato nel 1922 per volontà di più undicesimo, attualmente sono 270 le famiglie accolte dalla struttura. Nel 2013 si sono registrate più di 3500 visite mediche da parte dei medici e degli operatori, tutti volontari. Il dispensario accoglie famiglie da ogni parte del mondo e di ogni religione, la maggior parte delle famiglie proviene dall'America Latina e dal Nord Africa. Per statuto a presiedere la fondazione e le limosiniere di sua santità, in questo caso Monsignor Conrad Krajewski. Per le attività il centro è affidato alle figlie della carità di San Vincenzo de Paoli. Per le attività di San Vincenzo,